Basilica di Santa Maria in Trastevere, nel cuore di Roma, come ogni domenica alle 10.30 è in programma la messa del mattino. Ma ieri tra i banchi sedevano anche alcuni imam che hanno accolto l'invito della comunità musulmana francese di recarsi in chiesa. Un gesto di solidarietà con i cristiani dopo l'eccidio di Rouen. Una solidarietà con tutti i sangue, con tutta l'umanità. Noi nella prima linea per combattere il terrorismo, perché sapete che il terrorismo quando la prima persona che lo vede, sicuramente che vede il musulmano che va contro loro. Quindi noi nella prima linea di combattere il terrorismo, questa è la realtà. L'atmosfera è densa, il momento è importante. Lo sanno bene anche le decine di fedeli che hanno partecipato all'iniziativa. Fratelli musulmani al fianco di quelli cristiani, il miracolo dell'integrazione ieri a Roma sembra essersi compiuto. Nel momento delle letture, il Vangelo secondo Matteo mette al centro versetti di umiltà e generosità. Tutti attenti con il naso all'insù, verso il pulpito dal quale parla il sacerdote. Per tutta la durata della celebrazione, gli imam ascoltano in silenzio, seduti al loro posto. Si alzano e partecipano solo in un momento, lo scambio della pace. La messa finisce alle 11.45. Tocca ai rappresentanti della comunità islamica ora parlare. Le loro parole rimbombano forti tra le navate della Chiesa. Sono parole che sollevano gli spiriti e che condannano la violenza e il terrore. Che la pace sia su di voi. Questo è il saluto islamico quotidiano che si cambia. La pace è una cultura dell'Islam. Il nostro profeta ci ordina di diffondere la pace dovunque.